Tutto è pronto, partiti. Dottor Gianni, High Pitch e Third Strike hanno fatto partenza con Dottor Gianni che reagisce High Pitch, che si mette sotto, Third Strike parte svelto e cerca di convergere su Dottor Gianni che però davanti dice no agli attaccanti. E ora a un certo intervallo che partono visivamente in 3-4 lunghezze si apposta quarto V-mercati. Non si va a piano, almeno visivamente. I tre davanti hanno preso un filino allegra guardando le immagini con Dottor Gianni davanti su High Pitch nella sua scia. All'esterno Third Strike, i tre avanti a V-mercati Chameleon, i due di scuderia in giuba verde all'interno che sono Recife e Nova Scout di fuori G-Man. Third Strike all'esterno non si risparmia, va su Dottor Gianni, all'interno High Pitch, i tre avanti a Camiglion, V-mercati, Nova Scout, Recife e G-Man. Siamo ora in vista della curva, Dottor Gianni e Giulia Coccia, High Pitch all'esterno Third Strike, i tre continuano insistentemente. Poi Camiglion, G-Man, Nova Scout, V-mercati sul filino della curva, Dottor Gianni di Lena su High Pitch e Third Strike, tutti e due montati. Camiglion che si avvicina con V-mercati all'esterno, si affaccia anche G-Man con Dottor Gianni in vantaggio su High Pitch, Third Strike si avvicina a Camiglion. Prova a farlo, ha la frusta comunque, in seguito a sua volta da Recife, Nova Scout e G-Man con Dottor Gianni davanti, High Pitch che sta calando, Third Strike che non progredisce. All'esterno prova Camiglion ad andare a prendere Dottor Gianni, Giulia che mette mano alla frusta per respingere l'affondo finale di Camiglion. Dottor Gianni in vantaggio, è un filo stanco, Camiglion che prova ad andarla a prendere, Dottor Gianni davanti, mette mano ancora alla frusta, Giulia Coccia all'interno per salvarsi da Camiglion. Non lo fa, Terzo Recife. Erano nove anni, sette che non veniva a montare, nove che non vinceva, ma Giulia Coccia è sempre verde. Batte Camiglion, 4-1, Terzo Recife, 4-1-6, erano i tre più attesi e i tre che hanno fatto l'arrivo, poi per il quarto Nova Scout e V-mercati. Questo è il probabile ordine d'arrivo di questa prova, Giulia Coccia, ancora uno che vince andando davanti nelle prime due posizioni, Dottor Gianni, 3-15 al tot nazionale. Ed è tutto. Pronto? Giulia Coccia è senza...